buonasera a tutti buonasera buonasera da kareem ho preparato le previsioni già per martedì 10 gilaio bari nazionali tutti ambo ambito che vuole e con chi ora giocare settimana scorsa con lotto non abbiamo fatto niente per troppo proviamo di nuovo questa settimana come una volta ogni martedì ok e speriamo che esce qualcosa anche questa settimana va bene per il dice lotto è uscito qualcosa scusate sono un po stanco per preparare previsioni va bene allora le previsioni faccio una roba veloce eccole qua le previsioni di rotto vari nazionali tutti 69 81 69 81 del 10 gennaio ok per tre colpi ok speriamo che escono primo colpo ragazzi ambo ambito che vuole continuare con quelle vecchie quelle delle settimane scorsa potete continuare poi fate quelle che volete un po riunirli tutti insieme come volete ok e niente questi giorni non non sto tanto bene speriamo che i primi passa questo periodo e sono meno attivo sono meno attivo su su live di solito faccio anche la diretta su su youtube e poi anche sui gruppi facebook non sono attivo e speriamo che mi passa questo periodo ragazzi ok le previsioni sono queste speriamo che essi qualcosa dei buono e niente non ho niente da dire perché meno parlo meglio è ok ragazzi tra poco preparo anche 10 all'otto serale trovate sempre su youtube e poi chi non è ancora iscritto si iscrivevi al canale e speriamo bene ok grazie a tutti i vostri saluti scusate un attimo eccole qua scusate un attimo ok adesso preparo il 10 all'otto scusatemi una serata a tutti e buonanotte è perché un po pochino tardi fare questi video ok ciao a tutti ciao ciao da karim buonasera a tutti buonasera 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 da karim ho preparato le previsioni già per martedì 10 gilaio bari nazionali tutti ambo ambito che vuole e che vuole giocare settimana scorsa con l'otto non abbiamo fatto niente per troppo proviamo di nuovo questa settimana come una volta ogni martedì ok e speriamo che esce qualcosa anche questa settimana va bene per il 10 all'otto è uscito qualcosa scusate sono un po stanco per preparare le previsioni va bene allora le previsioni faccio una roba veloce eccole qua le previsioni l'otto bari nazionali tutti 69 81 69 81 del 10 gennaio ok per tre colpi ok speriamo che escono primo colpo ragazzi ambo ambito chi vuole continuare con quelle vecchie quelle delle settimana scorsa potete continuare poi fate quelle che volete un po riunirli tutti insieme come volete ok niente questi giorni non sto tanto bene speriamo che mi passa questo periodo e sono meno attivo su su live di solito faccio anche la diretta su youtube e poi anche sui gruppi facebook non sono attivo e speriamo che mi passa questo periodo ragazzi ok speriamo bene ok le previsioni sono queste e speriamo bene che esce qualcosa di buono e niente non ho niente da dire perché meno parlo meglio è ok ragazzi adesso tra poco preparo anche 10 all'otto serale trovate sempre su youtube e poi chi non è ancora iscritto si iscrivevi al canale e speriamo bene ok grazie a tutti i vostri saluti e scusate un attimo perché eccole qua scusate un attimo ok adesso preparo il 10 all'otto scusate mi taglio una serata a tutti e buonanotte è perché è un pochino tardi per fare questi video ok ciao a tutti ciao ciao da Karim grazie a tutti